sto ricaricando oggi a giorni a giorni a giorni eccola siamo gradici scarso a me senza troppetti Metti, ci vuoi ci vuoi usare lo che tridio Eh, mu cazzo, se senti Mamma mia, mamma mia, c'è a pensare Dov'è che stiamo online allora, raga? Su Youtube Sì, è un paradigme Però è qualche, almeno un pakistano, un indiano esegua Speriamo Eh sì, no, infatti Porco tu No, 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 figa Che tempi, che tempi Con Andrea Andrea in chat che ce li dicava Ogni sera, ogni sera Madonna, vantolino Che rigore Ogni sera andrà fisso alle rigacce Che poi subito Però erano partiti dopo che, cioè E i miei live si avevano per culo Poi, subito da quelle dopo Appena entravano, c'è iniziava l'irica Sub Oh, ho sotto i rum Oh, vaffanculo Oddio Che rigore Che poi i passaggi rimangono servati, vatti C'è, sulla live Eh, i commenti rimangono, mamma mia Siamo tutti Siamo a correre E famo tipo La rega, come state? Cioè, c'è l'armi E lui fa Eh, ragazzi Io sono una pistolina verde Cioè, mi ha fatto stringere il cuore E io ve lo dà tutto Un po' di sordine De casa ve lo dà Guarda Porco tu E iniziavano a sparare Se mettiamo tutti davanti a lui Che non fallevo lì Un po' d'oro Che c***o Ma vabbè Ma vabbè Ma era la, era la dulcezza, guarda Che poi giocava, giocava con l'account del fratello Perché lui non ce l'aveva Il fratello era più grande Che carino Ciao ragazzi Ciao ragazzi Oddio Ciao Iscritto 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 al canale Che poi io non ci credevo qua la sera Perché ho letto Ho detto Ottimo, questo vuole giocare con noi Eh, ho detto Ok, vedete Sì, sì, doveva un po' di serio Proprio di segura Eh, era lui In mezzo alla chat Dei bestemmi tra Andrea E l'altri due E l'altri due Madonna che te Madonna Jesus Christ Regà Sotto il più l'importa Dio Madonna Mamma veramente di dov'era ma che cazzo lo so porco sotto la chiamano occhi ragazzi posso giocare con voi si si troppo troppo che pensavamo che stavo io di andrea una volta sicuro tutto perché stava in quattro eravete brutto no al tiro nel tiro è vero mi scendono le lacrime per i ricordi no si 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 no c'è sta c'è sta mattina c'è sta e ti l'avevamo ritrovato forco due io penso non mi scorderò c'è un po' marchiata a ferro caldo dentro il cervello io c'ho solo una pistolina verde non mi scorderò mai un pannone che carino si è un mazzato facevo i caprichespiratori con lui piada van der piada van der gesù no ma beh no cristo rega eh si subito piada van der fugge su subito subito a mattini no vabbè 5 di riporto sto rega no rega non mi dite sta a vantaggio di 6 per favore a vantaggio di 6 no eh proprio lo faccio molti va bene lo spammi lo d'amazon prime bella mister famosamente un amazon prime è capace ma troppo lì gioco di merda di merda oh rega questa è la prima partita di live c'è la tocca vinci assolutamente per i fan per la gloria per l'onore per la gloria così così erano dei primi astrimati spirit va va mi metto la roba regalata di forza cioè il minimo il minimo quello di prepotenza di prepotenza di prepotenza a vantaggio di 6 fatto ci sono no occhio rega Occhia di meglia Occhia di meglia Nooo, c'è stato tipo di cemelli Occhia di 6 Vaffanculo Vaffanculo un'altra volta Vabbè caro che sta, regà, d'accordo che sta I armato Nooo, ieri Nooo, nooo Che tristezza perché c'è sabriniano che è quello ma cosa ne sono detto pur? Ma mi fa schifo il doppiaggio di Ryan Reynolds. Ma hai una fauna lo mio. Uno ha fatto il posto adesso e ha scritto peggior doppiaggio meno i tiri. Beh. Ha detto ogni volta che parlare di Ryan Reynolds me voglio dimettere il mudo. Non lo so, muo, ingerge meglio. Mamma mia. Ma mi ha messo, ma mi dice, ho girato un culo o non ho girato? Matti, l'ho perso. Porco tuo, porco. Ho fatto la street de' mudo, papà. Ti credo. No! Ma dove l'ho arrivato? Ma perché? Ma perché? Cosa cazzo stavolta? No, fanculo. ma affanculo figlio iscritti a volte No Tutto Bello Forza C'è una certa fama da mantenere Non ho avuto la bicicletta Perché aveva morti Guardate forza Caciuto Morco E vabbè ma c'è una montana Non ho avuto Non ho avuto Non ho avuto Non ho avuto Cucco di ua! un po' di guai ma io io mi pensavo chissà che diceva tipo pure perché magari da una cosa in giapponese perché questo c'è tipo dei caratteri giapponesi non è una cazzata è tutto molto sentito di quello che sembra poco di guai no guardate il culo poco di guai no la pizza è addormentato la città la live pure io raga pure dei serai madonna dopo un attimo via da mo 12 pipori pizza allora per pollicio non 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 metti c'è prime la stacca hamburgerona il guido di farlo bastardo lo tocca a me mi ce la raccomando, mo siamo in dubbio a tavolo ma come so le regole vostre, c'è le regole diverse, no vestigio oppure vestigio limitate io faccio il cartellino rosso come Matteo HS, metti il bollino rosso vabbè ragazzi la voglia non fiammi 3 euro a video come jumbo trill vabbè come ho questo ragazzo vabbè come ho questo ragazzo eh per forza va qui eh ok chiudiamo le gabbe raga l'abbiamo dopo mister ammetto dai dai sabba faccia una decisione costa tu mister e ura, lo mettiamo a zonprime fammi risabare i quattro cavalloni nooo che cazzo nooo vabbè 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 alla prossima casomai oscura webgum quando partimo o ma che go for che pare che ci sia un sniping ma anche esiste serva di niente guarda vedi dove uno sta per tirare ma ascolti o saluti qui dove ho rotto il cazzo l'istituto le cazzo sono cura un bando tanto si è moderato le due ma teniamo che la lady pizzo si è leggermente rizzata un filo come la mia stai leggermente rizzata ma c'è invece ancora vola ecco due quali difficili da naso per chi gioca e stream ma in alta qualità non sono sicuramente cosa vuoi? che computer stia a fiamme no eh ah vieni però mortacci tua che cazzo scusate raga ma sono mutate bravo nooo nooo Dai che recuperabile, forza, 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 forza Bella, invece butto, ma l'affranculo Stasera di tutto, stasera di tutto Guarda, guarda, no vabbè, ma che buce di curo E se c'è via l'angore? Mi rifà un filo, sono bello E' brutto l'auto-reverse Guarda, guarda che rimbalzo sta palla, metto il more Bello! E' un godo, e' un godo Parapatun Appena siamo accanto ai canzoni ci hanno segnato Bella, mazza Nooo Ma nooo Nooo Facciamo, facciamo il finale scoppiettante, vaffanculo E' un godo E' un godo Minimo E' un godo E' un godo Ma che era? E' pizzo, se era spoiler computer Mr. Marston Mr. Marston Mr. Marston Mr. Marston Spam Cioè, dovresti avere pure idee, eh Però, nel dubbio Balotelli 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 Vediamo che ti posso donare Non so se ci sono... Nooo Non so se c'è modi con... D'hamburger ora Insomma, cosa ci sta? Eccolo! Tiepi, solo per te Dunglo hamburger ora Dunglo hamburger ora Comunque, quando... Quando si regalano i sub Pi... Da... Da blur Si fa lo spammetto dei poni Di cosa, di? Lo spammetto dei poni Questo qua E' partito pure un tomblo Obama Dunglo Amante vabbè però bella vi ho visto visto tagliare il tempo giusto è giusto 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 intanto guardo pure l'altro schermo è tornato con chiude ho visto il schermo quello da streaming quello della chat e quello del jogo certo ho fatto due guarda il beccato stonefame godo perché fa questo rumore cazzo fai campane quello senti questo posto è in più si accende la parola di messa attimo sapevi che io so il patrimonio di pizzo so capace so pratico no no siamo legati pure spiritualmente sta legando oh mio vedi cocco di guà sull'altare nemmo di cocco di guà cocco di guà ok certo eh ho più 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 chi raga se droppate taggatemi che breve che breve che breve posto poi eh forse se droppate le le chiavi c'è tre cose che posso far sentire solo, che non lo presto in maura a me però trasmetti il gioco a capire twitch e passa paura forse ma perchè si frizza le vedi pizza? come si frizza? ah no aspetta 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 invece volevo dopo ho avuto top quali di streaming è presa per quello qui eh quello che ho avuto io cocodewa no cocodewa madonna ma sono aperte santa madonna cocodewa perde c'ho preso per te se sono aperte vado caccio a cazzogli agore ma sono uno spam messo davanti a un franno patapatunzz 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 no 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 patapatunzz e sui beat ci mettevo gargarozzo mbele vado blure blure c'ha boom baby vabbè vaffa c'ha boom baby quando le rubano boom baby bai boom baby bai e c'è c'è troppo sehr s呃 s'è s'è adorazione ma piazda no prima invece sulle sub su sub del primo mese c'era la risa dei lipo dei lipo dei lipo dei lipo uhuhu uuu uuuu se non faccio a segnare ti apri il culo tutti c'è oi Ma tu lo sei visto il video su Fortnite con Ciccio? Lo sappiano cazzo Ah vabbè Sì Ma quello sul canale di Blur Cioè Non lo so Con quel finale Che ha messo San Diego Perché Ciccio Alla fine del live metteva sempre lo San Diego Ah ok E l'ho messo In quel video quanto cazzo ho visto Oh ma c'è Cazzo te Che vizio Ma mi sa T'ha posto vizio T'ha posto vizio T'ha posto vizio Aspetta un attimo che come dicevo Collegato L'account Ma tu e c'è un'opero C'è un capito che mi chiedeva Ah ecco il codice Ma pizzo ha tornato Ah no Ma penso che era tornato E' morto insieme a cosa E' morto insieme a Eccolo Il toccante ha posto Quella era del Simon Ha posto Fa posto Ria fatta Ok Il toccante ha posto Il toccante ha posto Il titolo Il titolo I Acredito Il titolo I I I F I allora vediamo un po se partivo tutto ma vince tornato si ancora tra noi ma pinto senti faccio vedere la stream via sono fatta partì però la prima dice che partita nel senso si è normale che els trattino basso in moto di un basso senza roba maiuscola e tanto vedi che ciò l'ho fatto l'immagine del stallone come sempre si che esatto aspetta descrivi els trattino basso i montati in basso te provo te provo a scrivere aspetta anima 95 aspetta anima 95 eccole dovresti essere questo penso facciamo una notte messaggio eccolo per un messaggio te tu ci sei anima 95 senza trattini bassi senza niente è solo questo ci stai quindi questo è forza te raga come sentite Diciamo bene Qualche due C'è sto microfono Non mi chiedeva tanto Come? E costavo 7 euro Ah beh che c'entra Pure quello che c'ho io costava 7 euro C'è a 4 anni ancora pula Ma adesso ecco L'ho scollegato dalla scheda audio esterna L'ho collegato alla scheda madre Perché non so perché non andava più Io ho fatto partita La stream Medicina Sì Sì Ah Ah però si c'è tratta Ah si no Allora Allora Aspetta che Ragazzi io sto fa figo Sto fa amico Lo scemo Inserisci messaggio Allora 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 moto fa vedere guarda un po ma perchè a me non muovo a vedere ma santo dio cioè non mi posso dare alla mia ah eccola l'ho visto il titolo è cocco de guà hamburgherona l'avevo visto dentro il video come che c'è scritto sotto con la striscia viola carcarozzo bene però non voglio mettere che ne si vede pizzo vediamo il pedale mia guarda i roba c'è sto proprio su tic italia più di così cioè questo è proprio troppo quelli di streamer però un po mattia scrive su mamma che cazzo sto messo allora aspetta venga devo cambiare microfono la notizia no mi aspettavo vabbè stica faccio mattina e sto poi sotto sotto come in tutto la mia data Allora, provando su... Aspetta. Provando su utenti chat. A fianco al chat dello streaming. In alto a destra, dove sta chat dello streaming, c'è stato tipo due faccette, utenti in a chat. Oh, ehi, sul commento, sopra, c'è stato il video, poi sulla destra c'è stato dei commenti. Sopra c'è stato chat dello streaming. Eh, clicca a fianco, perché c'è stato scritto utenti nella chat, se ci passi con il mouse. Senza un moderatore. Amazon Prime. Aspetta, fammi un attimo. Voi ce l'avete tutti l'auto? No, io no. Allora. Rega? Oh. Ah, così mi sento. Ok, dove rimane. Dovrei rimanere in moto. Aspetta. Che hai fatto? Che hai fatto? Che hai fatto? A partito spam pure, perché c'è quello microfono, almeno dieci minuti, c'è vuolo. C'è un microfono, almeno dieci minuti, c'è vuolo, sì. a favore a favore alla fammi togli un attimo sto bordo che mi sono il cazzo si si è troppo figo alla fammi togli un attimo sto bordo che mi sono il cazzo lo faccio come un burro si si è troppo figo l'ho sempre voluto fare lo faccio come un burro oh rega annulla nulla annulla nulla rinforza rinforza annulla nulla annulla nulla rinforza rinforza romantica non te lo permette ma ti c'è sto smuttato non te lo permette se io ho badato visto tu lo puoi sbannare ma perchè pizzo non si sente più tanta madonna no sentite ah si così ok ok ma ci sono ci sono allora stavo un attimo preso a vedere ah brutta ma ti tranquillo gli ho dato io ho detto che c'è la mano pesante quindi dove lo sboni eh per favore mi racconta se ti ricapire l'altra volta quel marston o sai che devi fare dubbio dubbio eh io voglio fare l'abbonamento vip io voglio fare l'abbonamento vip oh no bravo 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 senza favoritivi quello che fa top donator del mese porco due qui devi perdere in pacchetto pokemon te per i dati venga domani faccio sbostamento carte pokemon porco due noi sono wos porco due ma guarda che tiro come faccio a far stream squad tra me e pizzo tipo ah porco due vabbè domani siamo tutti i partner sì no fatti sì siamo a guadagnare domani mi chiamo subito e mi bannano ma come aspetta l'accio dopo buttare l'occhio se era buona buonasera 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 ma non arrivo qua ma non arrivo qua ma non è scritti si può forza un po' successo che cazzo questo macello questo è troppo slimmer no ma ti calco dalla parte la mica so che cazzo mi ha dato c'ho tipo crea grip esegui ride esegui ride verso il canale c'ho tipo c'ho tipo ride hai detto la sua iscrizione è ottimo bravo claro che cazzo è ma che cazzo è ride ah ah ok ah ho messo pure no ti non metto la sala live è già piena no ma non fatti non te porta la chatte mia la tua chatte è tossica eh vi credo che è un po' caccia erogena a mio infatti tutto questo che per Marston stasera dovevo fatti di atta di atta le volta invece niente non mi dice la cosa a fine mese mese dopo maniare e andiamo fa ma ripa questa ma fa ma ripa per favore banno per favore per favore ma che cos'è il bitrate per favore banno per favore la quantità di dati ma che cos'è il bitrate ma che cos'è il bitrate ma che sapete va bene è capace ma 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 vado al volo su youtube ti chiamo pover ragazzino che non c'era vent'anni e dico se mi dice si like tutti si bene il bitrate mi dice 4.000 kilo bai sono che cazzo in poche parole è la qualità in poche parole breve vabbè infatti dopo buttatemi i genocchi come 4.000 non è tanto ancora infatti dopo buttatemi i genocchi ah brutto vabbè regà ma io non lo spregavo non lo spregavo cioè almeno è in hd può anche essere sì cioè può essere un hd però ma c'è un cazzo valla guardare un mortaciduo non è un hd è 720 è 720 è 720 è 720 ma cazzo non ho senso però però la qualità non è solo quello è il bitrate alla fine che conta ma qualità è pure quella che aveva un po' di porti ricordo se vuoi aspettare che te parte poi se c'è il microfono che ti scuriggia poi li dà un tipo può mettere gucci e blu è qualcosa dura ci sta marzazzando io ho io non ho regalato le gucci al compleanno ragazzi per favore a tre non la spammino almeno ma zonprime che forza almeno 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 allora a posto a posto a posto ragazzi stiamo lavorando per i nuovi modi con tranquilli mamma mia ragazzi ma tu lo trovate dove li trovate se continui dove li trovate quali per forza non può essere da meno io voglio sentire un attimo la